La novità di questa giunta che si è insediata è l'assessorato alle piccole cose in capo Rodolfo Bona, due progetti su cui sta lavorando Piazza Roma e la squadra di piccoli interventi. L'idea è quella di proseguire appunto nell'opera di riqualificazione dei giardini di Piazza Roma sulla pavimentazione, soprattutto sul calcestre e poi sulla parte più romantica del giardino, quella che i cremonesi appunto chiamano le montagnole, che ha bisogno di interventi di riconsolidamento e riqualificazione. In modo da rendere questo luogo sempre più vivibile, sempre più attrattivo, non solo per i cremonesi ma anche per i turisti. Lei ha anche un'altra delega che riguarda una piccola squadra di intervento, che cosa significa? Sì, questo si lega a, diciamo così detto, assessorato alle piccole cose, che è una novità di questa amministrazione. Spesso i cittadini segnalano la necessità di piccoli interventi, il mio ruolo sarà quello ovviamente di smistarli agli assessorati competenti, agli uffici competenti, però su alcuni piccoli interventi ritengo, riteniamo che sia necessario avere una squadra di pronto intervento, quindi anche con un piccolo budget, che possa risolvere puntualmente e velocemente questi problemi. Ora le segnalazioni, spazio comune agli uffici comunali, ma ci attrezzeremo anche per avere dei canali naturalmente molto più efficienti per arrivare direttamente all'assessorato. E quando sei insediato è già arrivata qualche segnalazione? Sì, sono già arrivate alcune segnalazioni, una in particolare a San Sigismondo su dei residui organici, dello sfalcio dell'erba che sono lì da un po' di tempo, perché sono in uno stato abbastanza avanzato di decomposizione, e quindi ho informato gli uffici e provvederemo al più presto a rimuoverli. Un'altra sua delega è quella dei quartieri, quindi passa da Rosita Viola a lei, cosa ha intenzione di fare sui quartieri? Ora sui quartieri è necessario continuare nel lavoro che l'assessore Viola ha fatto in questi anni, che è un lavoro costante di comunicazione, di ascolto e di interfaccia, sia con i comitati di quartiere, sia con i cittadini, le associazioni che lì operano.